Ciao a tutti, benvenuti su Mentitaro e a un nuovo video sui tarocchi interattivi. Con questo video noi esploriamo oggi le energie per la settimana dal 22 al 28 febbraio. Scegliete il mazzetto in base al vostro istinto. Abbiamo tre mazzetti, il primo con il quarzo di rocca, il secondo con il quarzo citrino e il terzo con il quarzo fumè. Bene, potete stoppare il video, prendere il vostro tempo e scegliere il mazzetto e poi saltare direttamente alla parte del video che è relazionata con il mazzetto da voi scelto. A dopo! Ed eccoci qua al primo mazzetto, quello con il quarzo di rocca. Vediamo un attimo le energie generali di questa settimana. Abbiamo la grande madre dell'acqua. Beh, è una bella carta perché indica un'atmosfera armonica, armoniosa nella nostra vita. E proficua soprattutto dal punto di vista relazionale, con le altre persone nel nostro entourage, in famiglia, ma anche con il partner, oppure a livello lavorativo nel nostro ambiente di lavoro, con i nostri colleghi e i nostri superiori. Vediamo un attimo cosa dicono i tarocchi nel dettaglio. Abbiamo per la prima parte della settimana la regina di spade in apertura, il cavaliere di coppe e le stelle. Poi abbiamo il nove di spade, la carta del giudizio e la carta della regina di coppe. E poi l'ultima abbiamo il quattro di coppe. Beh, effettivamente sono molte carte che ci parlano di emozioni. Perché abbiamo tre carte di coppe e poi anche due di spade che indicano la nostra sfera mentale. Dunque, vediamo un attimo. Per quanto riguarda la prima parte della settimana iniziamo con la regina di spade. Quindi ci deve essere evidentemente nella vostra testa una direzione che volete dare. Volete andare verso un vostro cammino. Potrebbe esservi anche dato da qualcun altro, cioè qualcuno che vi spinge verso una certa direzione. Potrebbe essere per esempio in ambito lavorativo il vostro superiore che vi dà delle istruzioni che dovete seguire. E il cavaliere di coppe potrebbe essere appunto anche una persona in ambito lavorativo che vi aiuta in questo senso. E appunto nella prima settimana, la prima parte della settimana, vediamo che siete abbastanza fortunati. Perché appunto la carta delle stelle indica che i vostri propositi sono per essere raggiunti. Vi capiterà una bella sorpresa. Quindi per dire a livello lavorativo, le nuove funzioni, le direzioni che vi sono state date, voi riuscite a eseguirle in maniera eccellente. Però vediamo appunto nella seconda settimana che sorgono delle preoccupazioni con il 9 di spade. Riguardo a qualcosa probabilmente che è relazionato con il vostro passato. Qualcosa che ritorna e appunto vi dà un certo malessere, una certa preoccupazione delle paure a livello soprattutto emotivo. Cioè nella vostra sfera emotiva. Perché la regina appunto di coppe riguarda appunto la sfera emotiva, la sfera relazionale. Il 4 di coppe indica che appunto avete un'offerta, un regalo, un'opportunità che non sapete appunto se accettare. E potrebbe essere appunto questa la fonte delle vostre preoccupazioni. Dunque io credo questa stesa sia molto molto legata alla sfera emotiva e relazionale. Per cui se vogliamo leggerla dal punto di vista affettivo, io direi che riuscite con il vostro partner a raggiungere un certo traguardo. Una bella sorpresa, un qualcosa che vi arriva. Siete voi però che la regina dispare, che date la direzione, che spingete il vostro partner verso questa direzione. Regina dispare anche se siete degli uomini, non fa differenza. Quindi in questo caso dal punto di vista emotivo io la leggo molto come l'espressione, la regina dispare della vostra persona. Cioè voi a un certo punto state decidendo, state dando una direzione al vostro rapporto affettivo. E il vostro partner vi sta seguendo nella direzione che avete deciso. Perché appunto si vede chiaramente anche diciamo a livello pittoriale, a livello di disegni, come la regina dà una direzione e il cavaliere segue. Probabilmente perché è convinto da voi. E questo effettivamente è la cosa giusta da fare perché appunto le stelle indicano che avrete successo, che appunto riceverete una bella risposta, una bella sorpresa. E la direzione che avete scelto, la strada che avete scelto è quella giusta. Ciò nonostante nella seconda parte della settimana appunto c'è qualcosa del vostro passato che vi turba. E non sapete se appunto dovete dare attenzione a questa parte del vostro passato che sta tornando. Perché effettivamente il 4 di copie indica una certa indecisione, una certa pigrizia mentale e soprattutto la possibilità che scegliate appunto di non dare attenzione a questo evento. Qualsiasi cosa che può essere che abbia relazione con il vostro passato, può essere una persona, può essere una notizia, può essere un evento, qualcosa che ritorna nella vostra vita. E sinceramente direi che le carte che appunto parlano di armonia e di riuscita, io direi che suggerisco in questo momento di porre attenzione a questo evento che torna dal vostro passato, a questa questione che risorge dal vostro passato e soprattutto risolverla, non ignorarla perché questo potrebbe avere dei pregiudizi nel lungo periodo. Quindi io direi che sono una settimana abbastanza divisa in due, la prima parte abbastanza fortunata, la seconda sembra un po' che avete degli intralci appunto che tornano dal passato. Non ignorateli secondo le carte, non ignorateli, ponetegli la dovuta attenzione, cercate di risolvere queste questioni perché altrimenti tornano e ritornano appunto, sia che siano questioni oggettive, sia che siano ferite, non risolte, non curate, timori che vi trascinate da tempo, dovete riuscire a risolvere, sia che sia a livello oggettivo, sia che sia a livello psicologico, dopodiché finalmente riuscirete a raggiungere appunto l'armonia interiore, la pace interiore che promette la madre dell'acqua, la grande madre dell'acqua. Questo è tutto per il primo mazzetto, se vi è piaciuto il video e ne volete altri di questo tipo, iscrivetevi al canale, non dimenticatevi di mettere il like e soprattutto di attivare la campanella in modo da non perdere i successivi. Grazie ancora e a presto! Eccoci di nuovo qua e partiamo con il secondo mazzetto, quello del quarzo citrino. Vediamo le energie della prossima settimana. La grande madre dell'aria. Dunque, qui ci parla effettivamente di una settimana un po' pesantina, perché avete come una sofferenza interiore. Di solito, in questo caso, la sofferenza nasce da un contrasto interno, un conflitto interno, fra quello che effettivamente vorreste fare e quello che vi conviene fare. È più un dilemma, ma neanche morale, quanto appunto magari il contrasto fra le proprie passioni, quello che ci rende felici e quello che magari ci conviene, perché è più, da un punto di vista pragmatico, più conveniente. Vediamo comunque cosa dicono i tarocchi nel dettaglio. Per quanto riguarda la prima parte della settimana, abbiamo il 6 di denari, la regina di denari e il 2 di denari. Poi, la seconda parte della settimana, abbiamo di nuovo un 2, quello di bastoni, la temperanza e il 3 di bastoni. Dunque, e il paggio di denari come ultima carta. Dunque, in generale, direi che è una settimana molto focalizzata sulle questioni economiche, lavorative e pragmatiche. Anche appunto lavorative, perché i bastoni indicano appunto questioni soprattutto lavorative. Effettivamente si vede un contrasto, o meglio, due opzioni probabilmente tra cui dovrete scegliere. E questo vi crea appunto una sofferenza interna. La settimana inizia con il 6 di denari, che indica appunto un'offerta. Qualcuno che ci aiuta, se la leggiamo dal punto di vista lavorativo, economico, sì, magari ci fa un prestito, ci fa una proposta di lavoro, ci fa una proposta in generale che può essere relazionata con la nostra sfera economica. E probabilmente può venire da una persona che appunto è molto pragmatica, è un leader, ma anche molto attenta al vostro benessere, come può essere la regina appunto di denari. È una proposta che potrebbe essere appunto vantaggiosa, ma non riuscite a vedere come poterla bilanciare con altri interessi che avete. Probabilmente non si confà veramente, non è proprio in linea con quello che interessa a voi. Il 2 di denari implica appunto questo tentativo di fare quadrare il cerchio, ecco mettiamola così, e il 2 di bastoni indica appunto nella seconda parte della settimana che continuerete a pensarci su e cerchete di capire un po' come riuscire ad amalgamare questa proposta con i vostri altri piani che magari avevate in precedenza, perché l'arcano maggiore che influenza un po' tutta la stesa è la temperanza. Che vuol dire la temperanza? La temperanza sta anche facendo un processo, richiama un po' il concetto di alchimia, perché sta diluendo del vino con dell'acqua, sta creando un nuovo prodotto, sta cercando di mischiare dei fattori per creare qualcosa di nuovo. E questo è un po' il procedimento che state facendo in questa settimana, nella seconda parte, cioè cercare di capire se potete accettare questa proposta, questo nuovo progetto, e riuscire a capire come adattarlo alle vostre esigenze, attraverso appunto la carta da temperanza. Il 3 di bastoni e appunto il paggio di denari indica che, sì, riuscirete, farete, dopo un'attenta riflessione, riuscirete a capire come far fruttare questo aiuto, questa proposta che vi arriva, perché il 3 indica appunto nuovi progetti, nuove attività che sorgono, l'inizio di qualcosa di concreto, insomma. E il paggio di denari indica appunto lo studio per portare avanti un nuovo progetto. Questo per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Dal punto di vista sentimentale potremmo dire che evidentemente appunto c'è qualcuno fuori dalla vostra sfera sentimentale che vi propone un qualcosa e questo può turbare la vostra sfera familiare, la vostra relazione, perché appunto crea magari dei problemi di tempo, non riuscite come amalgamare la vita di famiglia con questa nuova proposta. Però riuscirete anche in questo senso e riuscirete a far quadrare il cerchio, nel senso a portare avanti la vostra relazione nonostante nuovi impegni che vi prenderete. Quindi la grande madre laria vi dice che appunto non sarà una settimana facile, avrete molti dubbi, vi sentirete a disagio perché cercherete di capire come, che cosa seguire, cioè dovrete decidere fra ciò che effettivamente fa per voi e cosa è più conveniente. Secondo le carte ci riuscirete e vi porterà anche delle soddisfazioni. Questo per quanto riguarda il secondo mazzetto, se vi è piaciuto il video e ne volete di simili, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e anche mettete il like a questo video. Grazie ancora e a presto. Eccoci arrivati al terzo mazzetto, quello del quarzo fumè. Vediamo quindi le energie per la prossima settimana. Abbiamo l'incantatrice del fuoco. È una carta che indica un forte stress, magari anche dei conflitti, molto lavoro, forte fatica mentale, fisica. E quindi ci consiglia di resistere alla forte pressione a cui siamo sottoposti. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Per quanto riguarda la prima parte della settimana abbiamo il nove di coppe, il paggio di spade, il quattro di spade, e la seconda abbiamo il giudizio, l'asso di spade e il re di denari. Poi l'ultima carta è la ruota della fortuna. Dunque, vediamo un po'. Per quanto riguarda la prima parte della settimana, vediamo che ci sono parecchie spade, sia il paggio che il quattro di spade. Inizia bene perché vedo che, soprattutto dal punto di vista emotivo, iniziate la settimana abbastanza soddisfatti e sereni, perché il nove di coppe è considerata la carta dei desideri, nel senso che c'è una forte senso di realizzazione, soprattutto a livello emotivo. Però evidentemente non è sufficiente, perché poi il paggio di spade e il quattro di spade indica il bisogno di guardarsi attorno, di capire in che direzione andare e soprattutto di prendersi una pausa mentale, di recuperare le forze. Evidentemente venite da un periodo abbastanza stressante e nonostante sia stato proficuo perché vi ha portato appunto al nove di coppe, cioè quindi a una certa soddisfazione. Risentite la stanchezza, risentite la fatica, ma soprattutto a livello mentale perché appunto le spade guardano a questa sfera. La seconda parte indica che questo riposo vi è stato proficuo perché crea la possibilità appunto di riniziare, di, una volta recuperato le forze, di ritornare in carreggiata. Perché appunto la carta del giudizio, soprattutto accanto all'asso di spade, indica un nuovo inizio, siete ben pronti a difendervi da tutto da tutti e soprattutto ben equipaggiati per ritornare in carreggiata e continuare il vostro percorso, il vostro lavoro, per dire. e il re di denari potrebbe per alcuni di voi rappresentare voi stessi, ovvero che questo nuovo percorso che state iniziando vi sarà molto proficuo già alla fine della settimana e vi darà un forte senso di sicurezza e siete equipaggiati per portarla avanti perché avete le qualità appunto pragmatiche e di maturità che sono necessarie appunto per portare avanti le vostre attività. Oppure potrebbe essere anche una persona accanto a voi che potrebbe appunto darvi una mano nel vostro percorso. La ruota della fortuna indica comunque appunto che sì lo stress c'è ma si porta a buoni risultati perché è un evento esterno che è di solito appunto positivo. quindi comunque è un qualcosa che indica che siete come dire un po' alla mercè di fattori esterni che non potete controllare quindi potete soltanto aspettare che passi. Quindi evidentemente appunto siete in una settimana carica di stress per un qualcosa appunto che dovete riniziare e dovete affrontare e non dipende da voi però avete appunto le qualità la possibilità di sormontare qualsiasi fatica potrebbero essere lavori extra attività che vi sono richiesti nel campo lavorativo oppure un qualcosa che vi arriva all'improvviso dal vostro passato e che vi necessita appunto un anteggiamento un po' di difesa o vi costringe a dover prendere delle decisioni non facili. quindi scindendo l'interpretazione tra sfera emotiva e sfera lavorativa dal punto di vista lavorativo voi iniziate la settimana con una forte soddisfazione probabilmente avete ricevuto delle soddisfazioni a livello lavorativo degli apprezzamenti però allo stesso tempo il vostro lavoro vi ha stressato parecchio e necessitate di prendere appunto un riposo mentale dalle vostre attività nella seconda parte della settimana questo riposo vi aiuta di nuovo a riniziare il vostro lavoro in maniera appunto concreta assertiva e proficua magari avete un carico comunque di lavoro pesante appunto dovuto a fattori a voi non in vostro potere però le carte appunto vi stanno dicendo resistete perché poi è un momento passeggero che passerà. Per quanto riguarda la sfera emotiva la settimana anche lì inizia molto bene e poi a un certo punto vi sentite come dire c'è come uno stop magari state frequentate una persona che pone uno stop una pausa si tiene un po' le distanze però appunto nella seconda parte vedo che riuscite a chiarire con questa persona che è una persona come il re di denari quindi una persona comunque affidabile a cui si può dare fiducia e quindi riuscirete a chiarire le vostre posizioni e a cercare un nuovo equilibrio in questo caso appunto la carta della ruota della fortuna insieme all'incantatrice del fuoco entrambe indicano resistete non dipende da voi è uno stop momentaneo che passerà e appunto non arrendetevi ecco quello è il discorso che poi è anche il messaggio dell'asso di spade non arrendervi continuate per la strada che avete deciso e soprattutto cercate di parlare in maniera chiara con l'altra persona e questo sarà solo proficuo e fruttifero se vi è piaciuto il video mettete il like iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi video e nel frattempo io vi ringrazio e vi saluto alla prossima ciao